Ciao a tutti ragazzi io sono Clouds, bentornati nel video domenicale di Gwent, spero stiate Passando un buon weekend nonostante tutti i pericoli, drammi e le pandemie che ci sono in giro E oggi siamo qui per parlare di nuovo di mostri, finalmente, abbiamo finito il giro di fazioni, tocca di nuovo a mostri, tutti felici Allora, oggi vi porto un link, sì un link, what the fuck, un deck che trovate nello snapshot di cui trovate il link qui in descrizione Snapshot fatto dal team di Escar Gaming di cui faccio parte anch'io Ora, questa è la lista che trovate più in alto nel nostro ranking dello snapshot Perché sostanzialmente è quella che, secondo tutti, generalmente è la lista mostri più forte che c'è adesso Ma non necessariamente, perché in realtà, a mio personale giudizio, è alla pari di Aracas L'unica differenza è che questa lista qui, in un round corto, ha più tool di Aracas per gestire Ma Aracas ha un push molto più forte di questo Quindi va un po', diciamo, ad equilibrare i due deck A round lungo è un po' più forte questo, perché abbiamo comunque la combo con i vampiri che è tanta roba Sono una tonnellata di punti Mentre quell'altro, ovviamente, ha più elementi controllo Ha un pushing con dei bestioni mica da ridere E quindi, ecco Ora, spiegatovi il perché, diciamo, abbiamo queste due liste mostri lì per lì Voglio ricordarvi che se la serie di video di Gwent che vi porto vi piace Di lasciare un like qui in descrizione E di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le guide che porto Quindi, ne faremo uscire due a settimana Almeno finché questo trauma di coronavirus non si leva dalle balle Quindi, nessuno lavora al momento Quindi, possiamo, possiamo, abbiamo questo tempo bellissimo di fare due video Che comunque, come vi ho già detto anche nel video scorso, vi siete anche meritati Perché mi state supportando tantissimo in streaming Mi fa piacere, mi sto divertendo un sacco a streammare E mi trovate in streaming, per chi non mi segue già Da lunedì al venerdì alle 14.30 In cui bestemmieremo con lo Gnocca Day e con le flammate varie che poi vanno a finire anche sul Dendy Lion Show Preambolo finito, ci buttiamo sulla lista Allora, per quanto riguarda il leader lo conosciamo fin bene Profumo di sangue, tre cariche, tre bleed da tre Niente di difficile Quando abbiamo finito tutte e tre le charge Evochiamo un Echima su una fila casuale L'Echima non è altro che uno scoregiotto vampiro da due forze Niente di, che non fa nulla E' lì, vampiro, due forze, grazie Bene E' un leader complessivamente da 11 punti Quindi alla pari di Precision Strike Ora, per quanto riguarda lo stratagemma Generalmente nei vampiri troviamo il vantaggio tattico Che sarebbe foil, ma grazie ai bug visuali di questa patch merdosa E' appannato Comunque, generalmente troviamo questi Ma siccome noi non siamo una lista vampiri pura Ma siamo una lista vampiri splashata a Big Monster Non abbiamo bisogno di difendere in Ecurat Da eventuali rimozioni Perché non li giochiamo sostanzialmente Quindi il vantaggio tattico non ci serve La lampada invece sono 5 flat point molto molto carini Un'eventuale alternativa potrebbe essere mettere il teschio di cristallo Ma la lampada generalmente si comporta meglio Poi passiamo alla lista Allora Armatura vivente La forza di questa unità è sempre pari al valore della sua armatura E' una 10 per 12 che quindi è una 10 armor Con 10 forze La forza di questa cosa qui è che non te la possono neanche bleedare Perché il bleeding sull'armor non funziona E' figa perché giocata con Karantir Anche evocata a 1 Torna subito a 10 Quindi trasforma Karantir Che vediamo qui Schieramento evoca una coppia base con forza 1 di un'unità nella tua mano su questa fila Vuol dire che se non abbiamo in mano Karantir Abbiamo in mano Living Armor Tac Giochiamo Karantir a costo 8 Che è una 3 Che evoca una 10 Quindi proprio in proporzione E' esattamente un Savolla gratis Perché Savolla costa molto di più Ed evoca una 11 con armor Noi evochiamo una 10 Però è un 3 body che costa 8 Quindi in proporzione in questo deck Karantir non è altro che un Savolla più piccolo Ora Però gratis L'altra forza di questa roba qui è essere una 10 body di suo Quindi comunque è un target addizionale per Ozreal Che non è male Poi Passiamo invece a Higern Semplicissimo bestione Che dice Ottiene armatura pari al numero delle carte che ha in mano Quando non ha armor Esplode in una vale di cacca Non ha niente di complicato E' una 13x10 Quindi ha i suoi lati positivi E' il miglior target per Ozreal nel cimitero Ozreal che per chi si fosse affacciato al gioco adesso non è altro che questo simpatico E' bellissimo Davvero Bel ragazzo Che prima fila O fila dietro A seconda di dove lo mettiamo Consuma un'unità da un cimitero Davanti Quello dell'avversario Dietro dal nostro E si potenzia Della sua forza Quindi è un semplicissimo bestione Che varia dagli 11 ai 14 In questo deck A costo 9 Niente di complicato Poi Naglafar Guarda due carte oro casuali dal tuo mazzo Ne giochi una Questa è la parte importante Ok? Guardiamo due carte oro nel deck A muzzo Tra quelle che sono rimaste E ne giochiamo una L'altra però La mettiamo in cima al mazzo Quindi mentre decreto reale Normalmente ci da l'out Assicurato di quello che ci serve Questa cosa qui Ne sceglie due Fra tot Però giocata in uno spot adeguato E' meglio Perché il fatto di avere la garanzia Di pescare una carta che ci serve Tipo ad esempio Noi facciamo Naglafar Viene Iger Lo giochiamo subito E Ozreal Va in cima O che non fosse Ozreal Può essere Orianna Insomma Defender E via dicendo Molto molto d'utile Estremamente forte In un deck Che deve splittare Come questo Potenziale a round 1 E potenziale a round 2 O 3 Ok? Poi Tro di caverna E' il difensore di mostri Fa un cazzo E' un difensore 7 di body Costo 9 4 armor Mi pare 4 4 armor Si E' anche bellino la figura Dai Andala via Poi Katakan Prosperità Quindi è una triv Schieramento Evoca e richiama Un Echima su questa fila Echima è lo solito Sminchiattino da 2 Che non fa un cazzo E ultimo desiderio Quindi quando muore Evoca un altro Sminchiattino da 2 Che non fa un cazzo Basically Riassunto E' semplicemente Una 6 Per 9 Diciamo una 8 Perché evoca anche su Però una 8 Con prosperità Per questo 9 Quindi Bilanciato Che quando muore Evoca un'altra roba Quindi molto carina Ma è anche 2 token Vampiro Per Orianna Quindi aggiunge anche 2 Al bleeding di Orianna Ovviamente Essere un prosperità Da 6 Non è un vantaggio Nel senso che Si ok E' figo Che sia un prosperità Ovviamente da 6 Lo proccheremo 1, 2, 3 volte Al massimo Durante un round lungo Quindi Non è che Però già che lo procchiamo 2 volte E' una 10 per 9 Con prosperità E capite bene Che lì già la musica cambia Se ci ragioniamo un attimo Matauri Tutor broken Neutrale La mettiamo dietro E se nessun giocatore ha passato E la mano dell'avversario Non è al completo Vabbè ma questo Insomma Ormai lo sapevamo Noi peschiamo la carta più forte E lui pesca la carta più merda Semplicissimo Orianna Ecco Questa è la carta preferita Del Clouds Al momento Per la fazione mostri Ma l'ho sempre stata Da quando è uscita In realtà Allora Orianna Dice Schieramento E infligge Sanguinamento A un'unità nemica Tanti quanto Sono il numero Dei vampiri Alleati Ovvero Se noi abbiamo Senza contare se stessa Se noi abbiamo Altri Che ne so Solo Katakan E il suo token Merdosino da 2 Orianna infligge Due sanguinamenti Cioè Sanguinamento da 2 No scusate Non 2 sanguinamenti Un sanguinamento da 2 turni Alla fine di ogni turno alleato Si potenza di un valore pari Al numero di unità nemiche Affette da sanguinamento Ok Spieghiamolo al volo Allora Immaginiamo un'ipotetica partita In cui L'avversario Gli mancano 3 carte Perché Orianna Va quasi sempre giocata Quando l'avversario Ha solo 3 carte in mano Funziona che Funziona che Noi giochiamo il leader Che ha 3 charge Da 3 turni Quindi l'avversario Ha ovviamente 3 carte in mano Noi Prima Di fare Orianna Ricordate quindi Di trovare il turno Per incastrare il difensore Dietro Dopodiché A 3 carte left Noi facciamo Leader su uno Leader sull'altro Leader sull'altro Usiamo tutte e 3 le charge Che danno bleeding E a questo punto Evocchiamo il tokenino Vampiro da 2 Se in campo Abbiamo altri vampiri Mettiamo caso Che abbiamo appunto Solo Kataka Nell'altro sminchiettino Abbiamo un totale Di 3 vampiri Quindi Orianna Bleederà un'altra unità Per altri 3 turni Ok? Quindi abbiamo 4 bleeding Lei a fine turno Prende più 4 Ogni turno Finché ci sono Sanguinamenti in campo Cioè a seconda A seconda dei sanguinamenti Che ovviamente Sono tutti da 3 turni In questo caso Quindi è sempre quello Il che vuol dire Che Orianna Diventerà 4 8 12 16 Per 9 Solo avendo 3 vampiri giù 1 è garantito Dal leader E 2 per esempio Mi ha fatto l'esempio Del Katakan Perdonatemi E Se invece Abbiamo più vampiri Bleederà Cioè diventerà Ancora più grossa E in tutto questo Leviamo ogni turno Tutti quei bleeding All'avversario Ok? Adesso se detta così Vi rendete si conto Che sono tanti Perché comunque Abbiamo detto Che lei diventa 4 8 12 16 E l'avversario Però perde 4 8 12 16 Quindi capite bene Che leader Combinato con Orianna Già solo con 3 vampiri È una giocata A 32 punti Non cazzi piccoli Voglio dire Cioè Rocchi proprio Eh Mica da ridere E quindi Orianna È in assoluto La nostra finisher principale Per il round lungo Ma anche per quello corto Volendo Solo che in quello corto Bisogna aspettare Di mettere un bleeding A turno Se il round Da 3 car Ma è nata di pale Invece in quello corto Eh scusate In quello lungo Noi quando abbiamo 3 carte left Za 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 Bleediamo tutto E via E oggi E oggi ne abbiamo parlato Goliath È un semplicissimo Sciccione Che se dovesse morire Una 10 per 8 Richiama l'unità più forte Dall'avversario Nella fila opposta Dove lui Quindi state anche attenti A dove lo mettete Goliath Eh Volendo Goliath Si può Rimpiazzare Nel senso che Un sacco di persone Col fatto che giocano Carantil Per splittare Cioè per duplicare L'armatura vivente Spesso non hanno Bisogno Eh Di Goliath Nel deck Di solito si tende A Spiegarvi dopo i cambi Perché se no Non ne usciamo mai Goliath è un Simpaticissimo Ciccione 10 per 8 Boh Ecco Poi Carantil Ve l'ho spiegato Alda striga Schieramento Danneggio di 2 Unità nemica Quindi già una 7 per 7 Dominazione Come spesso accadrà Danneggiamo di 4 Quindi è una 7 per 7 Barra 9 per 7 Che non ha nessun effetto Particolare È una bestia maledetta E ce ne fotta un caso Forse Vampiro Sarebbe un attimo più forte Ma non è così Regina della notte Questa è la nostra Carta utility Che però di utility Ha ben poco Nel senso Eh La cosa per cui la giochiamo Oltre a essere Un vampiro molto forte È col fatto che Dietro purifica E non è una cosa da poco Una 5 per 7 Che purifica Ma Se noi la giochiamo Offensiva Mette 4 Eh Di bleed Su un'unità Quindi la fa seguinare Per 4 turni E diventa una 9 per 7 Quindi overvalue Come striga Per il suo costo La differenza è che Non ha bisogno Di nessuna condizione Al contrario di striga Poi la bestia Questa è la nostra Carta tech Sia per la red coin Sia per il round lungo Dice Alla fine del turno Se questa non è L'unità più forte In campo Quindi considera Entrambi Entrambe le board Sia la nostra E quelli dell'avversario Si potenzia di 2 Niente difficile Eh Ah Se è pari A un'altra unità Non si potenzia Cioè se l'unità più forte Per esempio È un goliath Da 10 E questa fare Arriva a 10 Non va a 12 Rimane a 10 Perché la dominance In questa patch È pari Nel senso che Noi possiamo attivare la dominance Anche se abbiamo Un'unità forte Pari All'avversario Però Ecco Ricordatevi solo questo Parassita Semplicemente Danneggio 6 O potenzio di 6 Rispetto alla lista Dello snapshot Questa è la prima Differenza che trovate Che è una mia Tatch personale Perché il fulmine di Alzur Per quanto ci permetta Di giocare il drowner Che è un'ottima carta In questo meta Purtroppo Io trovo che Soprattutto Vista la quantità In gente Di mirror Di mostri Che ci sono Poter rimuovere Istantariamente La bestia avversaria Con un parassita Fa troppa differenza Rispetto a non poterlo fare Aracas ha la fortuna Di avere anche il tutor Con la crone Da due body Con la wispess Che va a tutorare Il parassita Bloodshant Non ha questo lusso Perciò Lo giochiamo di mazzo Quindi in un mirror Di mostri Può essere una buona Accortezza Tenerlo in mano Il parassita Se pensate che L'avversario Possa giocarvi la bestia Perché se rimuoviamo La bestia Abbiamo Con una 6 Rimosso una carta Da 7 Con un 6 body Se non la rimuoviamo Chi gioca mostri Di voi Sa benissimo Che la bestia Arriva a fare 10-12 punti Tira dritto Fino alla fine Del run Un disastro Quindi avere il parassita È molto molto figo Per mettere il parassita Visto che ora Abbiamo diciamo Raggiunto le bronzo Io ho Quindi levato Il fulmine di alzur Upgradando la parassita E ho levato il drowner Downgradando Avrite diurno Che Anche se a voi Non piace molto Questa carta Perché vedete solo L'effetto negativo Dovete anche guardare Il fatto Che questa carta È una 6x4 E giocando 4 triv Se noi partiamo Per esempio Con Larva di Andriaga E Bruxa Questa roba qui Procca entrambe Ed è una 4p Quindi invece che giocare Per 6 A costo 4 Che già è buono Gioca per 8-10 punti A costo 4 Quindi è veramente Molto forte Oltretutto di red coin Se siamo in pushing Questa qui è una Una delle 4 Che in assoluto Fa più value Quindi niente di che Poi Larva di Andriaga Visto che l'abbiamo citata Prosperità da 5 Con un solo body Quindi la prosperità Per eccellenza Schieramento Evoca una coppia base Di un'unità Cioè di questa unità La richiamo su questa fila Quindi di base È una 2x5 Ma già Che prende Che diventano 3 tutte e due Questa roba Comincia a tirare dritto Diventa una 7 Una 8 Fino a fine del round E quindi capite Che essendo che sono 2 E diventano 12-14 punti Per 5 Provision Una roba gigante Poi Natural Selection Sono dei piccoli spari Non perché non ci fossero Altre cose da mettere Perché eventualmente Si potevano mettere Delle altre triv da 4 Delle altre prosperità da 4 Però io trovo Che la selezione naturale Soprattutto in questo meta Dove i mirror di mostri Sono parecchi Ci sono tante piccole Engine da 3-4 body La guardia reale di Radovid Per citarne una Tra le più fastidiose Insomma E queste cose qui Le barche di Scoia Avere un bottarello Da 4 Su una fazione Che pecca di suo Di removal Rispetto ad altre È molto molto carino Quindi È un'onestissima 4x4 Niente di eccezionale Niente di OP Niente di niente Non è forte Chiaramente come in Aracas Però È comunque buono Poi Plumard Vampiro da 4 È una 4x4 Che di base Inflige sanguinamento A un'unità nemica Per due turni Quindi è una 6x4 Senza condizioni Estremamente forte Ed è vampiro Legame Vuol dire Se ne abbiamo due insieme Cioè Se quando giochiamo il secondo Uno è già sulla board Inflige sanguinamento All'unità nemica Per quattro turni Quindi diventa una 8x4 È già la musica cambia In termini di openness Poi Falco di ferro Trovatore Semplicemente Una engine di supporto Per la nostra Living armor E per il nostro Ygern Abbiamo la possibilità Di dare Due di armatura Un'unità nella mano Quando lo giochiamo Che spesso sarà La living armor Perché non prende Solo due armature Ma siccome Considera la sua forza Come la sua armatura Diventerà una 12 Invece che una 10 Niente di Difficile Se non avete Né Ygern Né Orianna E né La living armor In mano Durante la fase di Mulligan Questa roba La potete Mulligan Perché lui diventa Forte solo se Combano Una di queste tre Carte Per Orianna E Ygern È per la Survival ability Invece per La living armor È proprio per la forza E Brooks Ha anche qui Una prosperità Schieramento Inflige Sanguinamente Un'unità nemica Per due turni Con prosperità Quindi è una 5 per 4 Con prosperità Niente di difficile Ora Parliamo velocemente Dell'unica sostituzione Fattibile Che è Levare il Goliath Ok Quindi guadagniamo 8 provision Di norma Al posto di Goliath Ci sono Due possibili soluzioni I più avventurosi Giocano Gale Che è Diciamo Per eccellenza No Il vampiro Che Richiama un po' di più L'archetipo Del deck Se Non vi piace Gale Potete A parte che se mettete Gale Abbiamo la possibilità Di riappgradare Il Wraith A fulmine di Azur O Drawner Quale vi piace di più Vanno bene entrambe Perché comunque sono situazionali Forse Drawner può fittare meglio In questo caso Sì Sì Decisamente Mentre Se invece volete rimanere Sulle 8 provision Potete giocare L'Imlerit Rage È vero che noi Non giochiamo Imlerit Ma uno sparo Che costa 8 Che comunque Noi raniamo Diversi body Che insomma Sono belli Corposi Uno sparo da 8 Non è mai male Nel senso che Se noi abbiamo Una living armor Questa roba Già spara per 10 A costo 8 E già la musica cambia Non necessariamente Dovete per forza Sparare Su una roba enorme Però Questo è un po' Il discorso Del spariamo Sul the beast Nel senso Si può Sparare Su La bestia Con questo Basta avere Anche solo Un katakan Voglio dire Quindi è già buono Diciamo che Al di là di questa Se volete ancora più Tutoring Ci potete mettere Questa Perché questa mette in gioco Un'unità più forte Quindi va a tutorarvi Uno di queste due Che vi servono Qualora vi mancasse Queste due Visto che il goliat L'abbia allevata Ci andrà a prendere Il defender Quindi non è sbagliato Mettere questa carta Che è poco giocata A parte in qualche Arche tipo Particolare Tipo Commando Ma è estremamente Forte in mostri Sta carta Purtroppo Diciamo che Lo spazio È quel che l'è Quindi bisogna Fare delle scelte Di solito Si tende a preferire L'Immelit Rage Non è però sbagliato Mettere questa Perché non sempre Abbiamo Igerne in mano Quindi già partire Con un Igerne di Red Cazzo Una 13 Che 9 armor Non è facilissima Da levare Insomma la musica cambia Poi Vediamo un po' Questo era per quanto Riguarda le sostituzioni Parliamo invece Dei matchup Ci sono dei matchup In cui È necessario Pushare Perché nonostante Il nostro quantitativo Di punti a round lungo Sia estremamente alto Non è alto Come quello di altri Per esempio Se siamo contro Un deck Kikimora Pusheremo sempre Round 2 A costo di andare Una carta sotto Per fargli usare Leader e combo Con Kikimora È un matchup rischioso Perché anche lui Gioca Igerne e Ozreal Quindi non sempre Basterà Però è così Che va giocato Contro Armonia Scoiatel Soprattutto Ecomistica Ma anche Precision Strike Tenderemo a rendere Il round corto Da 5 o meno Carte Perché Abbiamo modo Così di sfruttare A pieno Orianna Ma allo stesso tempo Di avere delle powerplay Inozreal, Igerne, Goliath E quant'altro Per il round corto Altri matchup Sindacato Ecco Sindacato Un matchup In cui generalmente Va pushato Ma non necessariamente Fino alla fine Generalmente Si tende a voler Prendere il defender Ma A seconda Del leader Che hanno Potrebbe O di quello Che hanno investito Nel primo round Potrebbe essere Saggio Soprattutto se eravate Voi di blue coin Pushare Fino a prendere O passiflora O savolla Generalmente Si preferisce Defendere passiflora Però Magari Pigliate Defendere Leader Magari Pigliate Defendere Savolla Magari Pigliate Savolla Leader Cioè Qualche sua powerplay Va levata E state attenti ad una cosa Perché c'è un nemico In sindacato Di questo deck Che nessuno si caca Però In realtà Possiamo farlo diventare Nostro amico Che è Saul De Navarette Saul De Navarette Diciamo per chi magari Buon per voi Non gioca a sindacato È questa roba qui Questa roba qui Con accumulo Di norma Tende a counterare Molto mostri Soprattutto se lo caga Dietro i defender Ma A nostra volta Noi possiamo Incastrargli De beast dietro In questo modo Limitiamo di tantissimo Il potenziale di pushing Che ha Saul Meglio Il potenziale di rincorsa Non tanto di pushing Perché siamo noi a push Adesso dico E ecco Questo era Un appunto importante E Basta Penso di avervi Diciamo detto Tutto quello che serviva A sapere Se mi sono dimenticato qualcosa Vi invito ad andare Sulla guida di Eskicard Gaming Di questo deck Che ho fatto io Quindi Se me la sono persa qua Potrei non essermela persa Nell'altra o a parte Ecco E niente Io vi lascio Con le due partite dimostrative Noi ci vediamo Dal lunedì Il vendere 14.30 Più veloce di così Si muore Manco Eminem In streaming E Mercoledì O giovedì Più probabile mercoledì prossimo Con la nuova guida Ciao cari Ok Siamo contro Imperial Formation Dunque Potrebbe essere Un poison O potrebbe essere Un soldati Soldati Ovviamente di red coin Saremo avvantaggiati Di blue coin È un po' rischi Però abbiamo Parecchie trive Da gestire per la blue coin Questa combo Qui è carina Soprattutto di blue Questa non dovrebbe Servire in linea generale L'unica cosa che ci rompe Il cazzo un po' Rich Insomma Insomma Questa 6 body Questa bronzina qui Con 1000 Scarafoni trive È una buona carta Perché gioca per Tipo 10 punti Per 4 provision Quindi Tanta roba È tanta roba Ok È un soldato E non è un poison Dio ti ringrazio Perché sennò Mi stava già venendo L'ebola subito Altro il coronavirus Questo è molto cattivo Da parte tua E io sono Estremamente contrariato Da quello che fai Ma siccome Questo Che lo portiamo a 2 O che lo lasciamo a 1 Implod da una valle di merda Dal prossimo balestriere Comunque Tanto vale Non c'hai da pensare C'hai da fare balestriere Su quella 1 E basta Non è difficile Sono mosse che Per quanto ti puoi pensare Tanto È sempre così Va bene Questa armor Assorbirà un pochello Di ping Non troppissime Ma un pochino Quindi Noi abbiamo la possibilità Di levare L'armor da una Di queste signore Qui Buongiorno Intanto qua abbiamo La triade di vermozzi Dietro Che si ingrossano Come tirannosauri E quindi Non solo lui perderà Questo round Ma Se dovesse vincerlo Una carta sotto Comunque Gli abbiamo preso Tutte e due Le balestriere Anzi Almeno una delle due Con tanto di Quella fare là Vabbè Questa muore Sticazia Noi due Basta Ne avanzano Già con una È diventato un po' Più complicato Ma con due Ce la facciamo agili Quindi nel dubbio Noi che siamo Cagoni nel profondo Mettiamo anche questa E siamo sicuri che Il round lo vinciamo Anche perché Messa in mezzo È da due pezzi Non può farci assassinate Cioè anche di lato È da 5 Però essendo che di lato Poi può sculare Qualche ping strano Col balestriere Allora Ecco Generalmente parlando Può anche farci Invocation Se vuole Ma l'invocation Di solito la tengono Per Igerne Perché mi forte Mi furbo Invochiamo Igerne Poi noi ci mangiamo Goliath E Igerne Scende a caso No in realtà In questo deck Purtroppo Igerne Non me lo posso mangiare Non è Non è la Racas Però Noi adesso abbiamo Un paio di play Un po' più lente Ma che servono Alla causa Quindi è ok Lui penserà Di poter fare Il giga reach Di Il giga reach Di Di leader Ma sei contro mostri Il tuo giga reach Di leader È molto relativo Purtroppo Il ping Sulla Sulla 5 Sulla Sulla beast Non lo possiamo Ancora recuperare Ma lo recupereremo A breve Non subito Ma a breve Volevo che usasse Anche un altro Balestriere Giusto per essere sicuri Ma in realtà L'unica cosa Che noi spaventa Di quel deck È il defender Perché il defender Non ci fa fare Aggression Su Stefano e Damien Anche se in realtà Non possiamo levarglieli Però il defender A suo modo Comunque impedisce Anche il nostro leader Quindi in un modo Nell'altro Bisogna risolvere Il defensore E con risolvere Intendo Che dobbiamo Circa prendere La schiava Grazie per aver Baffato l'unità Giusto per essere sicuri Col cazzo Che te la bliddo Blidiamo questa Con armatura Che tanto Non dà fastidio a nessuno La bestia La bestia ricomincia A ingrossarsi Ticca due volte Perché Quella a fare È dispari Là siamo Molto avanti Abbiamo 11 punti Tenendo conto Dei bleeding Avanti Giocando Praticamente Di Fondamentale Solo questa Perché questa qui È una carta Da quando posso Me la gioco Quando non sti cazzi Questa invece È l'unica carta importante Che abbiamo buttato Però lui Al sua volta Ha buttato Di importante Ramon Che è l'unica Vabbè decreto Sì Per fare Ramon Più che buono Più che buono A questo punto Lo pushiamo Come un bastardo Basically Perché se non prendiamo Il difensore Il discorso di prima Il leader Non lo risolviamo più In più Con qualche bribe Di sculacchiata Può rompere il cazzo Basically Oh Salve signori Ok Quindi Matta ci darà Orianna Beh bello Maligare per ritrovare La stessa carta Grazieci di più Pr È stato bello Divertente Vabbè Facciamo matta Su Orianna E si vola A parte che Se lui gioca Se gioca Gioca un solo Purify Se lui non mi purifica Il defender Perde di punti Quindi Nel dubbio Noi intanto Ci aggiungiamo Orianna alla mano Poi pensiamo A cosa fare What? Ma Orianna Costa così poco? Ma dai Pensavo costasse 10 Orianna Che fail Pensate che Mi è sempre capitata Orianna di matta In sto deck Non capisco come mai Non capisco come è possibile Questo Nega un po' Il nostro potenziale Di pushing Però In un modo o nell'altro Bisogna comunque Spingere il round Che sia Orianna O che sia La combo di living armor Qualcosa bisogna giocare A round 2 Per pushare Questo mazzo Questo mazzo di merda Pazienza Ce ne faremo Una ragione A questo punto Direi che possiamo Investire Al necurat Più removal Li portiamo via Meglio per dopo Ma l'importante Rimane comunque Prendergli Il defender Quello è in assoluto La cosa più fastidiosa Certo Non avendo noi target Per Ozzerale Adesso Rompe un po' Le scatole Però Gli uccideremo Igerne dopo Se serve A parte che le brutte Possiamo usare Carantir con questa Per garantirci Un target al cimi Proprio proprio Una bella sette Inutile Ci piacciono Le sette inutili Adesso andiamo A ponderare Su Naglaffer Naglaffer Adesso La possiamo fare Perché a parte Ozzerale Orianna Tutto il resto Va bene Abbiamo volendo Purify per il defender Se proprio proprio Però anche un Parasita qui sopra Non sarebbe affatto male Ok ci mettiamo In cimi Orianna Pegliamo questo bestio Che andrà al cimitero Per Ozzerale dopo Se lo peschiamo Perché Vi so come sta andando Vi so come tira l'aria Si sa E l'unico out negativo Era Orianna E Ozzerale Allora Questa roba qui Non gli fa fare reach Che è molto positivo Adesso si fa un po' di matt Allora Lui è Solo tre punti Behind Se lui mette Stefano Damian E usa le charge Di leader Rischiamo di non Recuperare la carta Noi Avendo la sicurezza Di prendere Orianna A parte Ozzerale Non abbiamo bisogno Di nient'altro Quindi possiamo Tranquillamente passare La Joust Sì Sì va bene Speravo di prendergli qualcosa di meglio Però Va bene Abbiamo preso il defender Che era quello che ci Urtava di più Molto bene Vediamo se riusciamo a trovare Un Ozzerale Eccolo qui Nero Nascosto Ma c'è Quindi via questa E via questa Eh vabbè Cosa ci abbiamo missato Parassita Che poteva essere comodo Per Damiano Stefan Forse E E la regina Però il defender Grazie a dio Gliel'abbiamo preso Questa roba qui C'ha sei vite Tende a essere Un attimo Unkillable At the moment Però 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 Ci limiteremo A mettere tutto dietro Penso Perché tanto Andrà tutto dietro Al defender Cominciamo Sobriamente con questa Vediamo se lui Ha la seconda La Joust in mano Non credo che la tieni In un Maligand Round finale La Joust Però Si sa mai Magari gli è capitata Dopo aver Maligato Ci può stare Consiglio di guerra Certo Va bene O a Joust O a Assassin Sarebbe morta Quindi Consiglio di guerra Implica che lui Non può più andare A fare search Nel deck Perciò Vediamo se Effettivamente Siamo riusciti A trovarlo Senza Purify Anche perché gioca Una lista strana In cui gioca Gli Assassin Quindi se gioca Gli Assassin Come spot a 5 Non dovrebbe avere Il Purify E infatti Vediamo se trova Ozreal Speriamo proprio di no Sarebbe estremamente Piacevole Che tu non trovassi Ozreal Mi renderebbe Molto felice Né Ozreal Né la regina Della notte Carantir Su Stefan Questa già È pesante Su Damien Damien è meglio Di Stefan In realtà Perché si Sono 8 punti Però Stefan Rischiano di essere Parecchi di più Quindi Onde evitare Qualunque forma di Facciamo così Ci mangiamo questa Perché se lui fa Stefan E noi non possiamo Levarlo Chiaramente Tende ad annacquare Un po' Questo è il turno Di Orianna Generalmente parlando It's the Orianna Turn Eh certo Eh certo Baffa di 7 Entra la 5 Ricarica il leader Non c'è neanche bisogno Che entri la 5 In realtà Sbatta il cazzo Lo può fare entrare dopo Eh vabbè Sono tanti punti di leader Non ci possiamo fare Una sega Purtroppo L'amore dall'amore Toglie Quindi Cominciamo A blindare Everywhere Mettiamo questa Bella Orianna Qua Che comunque Sono Parecchi danni Cioè nel senso Worta più la mia Orianna Che il suo Secondo leader Però Allo stesso tempo Bisogna vedere Se c'ha Stefan In mano Menno Coyorn Non ha Stefan In mano Perché altrimenti Stefan viene briccato A parte che era già briccato Da Dall'imperial Cosoli Come si cazzo Si chiama Il consiglio Banana E questa roba qui Mi viene mai Ok Eh si Ha evitato un danno Di qua Però non impedisce Il buffing di Orianna Perfetto Ah si si Sei molto avanti Sono parecchi punti Va bene Metteremo questa Oh guarda Sono di nuovo avanti io Trolololollami Ok Se non gioca Igni a caso Spero proprio di no Mi piace pensare Che la gente Faccia i deck Con un minimo di criterio Dovremmo aver vinto Grandi linee Perché lui non può negare Orianna Questa roba qui Si Level defender Ma Location è già andata Ecco una triv Male non fa A questo punto Mettiamo una bella Eleven Qui davanti C'è una bella Twelve qua davanti Che piglia Altri tre Qua dietro Una bella Sette E poi Vilge forse in soldati Dio questa mania Veramente Non la capirò mai È finito il turno Dovresti muoverti Sì A mettere anche l'altra Perché Perché notte bastano Vabbè In realtà Non abbiamo Non abbiamo vinto Di tantissimo Però considerando Che lui ha fatto 13 di Igerne E 15 Damien Tutto sommato Nel senso Non c'è neanche bisogno Di vincere Di chissà quanto Tutto sommato Questa mania Di mettere Vilge Forza dappertutto Va bene Siamo contro Manovra Tenaglia Non so se sia Uno Shoop O se sia Un Charge O se sia Un qualunque Altra cosa Ma il Charge Apparentemente Piace solo a me Quindi non gioca nessuno Allora Faremo Che Visto che siamo Di red Forse due di queste Possono risultare Un po' lente Però abbiamo Questa per rincorrere Probabilmente I removal Sono più utili Questa non abbiamo La living armor Quindi Attura Rischi di tenere in mano Ok Defender per dopo Può andare bene Quindi doppia triv Più The Beast E Igerne Potrebbe garantirci Il vincere a carte pari Però Non è detto Perché se lui È un deck charge Vabbè Quella dice poco Vediamo se gli da Il più 5 Questa è la carta Più odiata Dei regni settentrionali Cioè tutti quanti Odiano quella carta Perché è talmente Overtoned Che rompe proprio il cazzo Perché non è che da più 2 Basta e quindi è una 6 per 4 Come tante altre No Da pure 2 armor Che in quella Che in quella fazione In particolare Non puro anche il cazzo Perché vanno a baffare Un sacco di cose Il Plutea me la Pluteo Vabbè lo buffa tanto Non credo No? No perché ha paura Si vede del Si vede che ha paura Si vede che ha paura Di 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 Drawner Per quello Non lo buffo Però Drawner Si è una carta fortissima In questo meta Ma qua non ce la siamo riusciti A far stare Perché c'era nella lista Originale Per metterci un fulmine Però purtroppo Il parassita Avere quel punto in più Di removal È troppo 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 Capisco Questa Rompe Un pelo 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 Il cazzo Però prima Mettiamo questa Che rincorre per bene Va a 6 Quindi non può spararci sopra Con la 5 Dei regni Ed è kinda fine Per adesso Questa è terribilmente Fastidiosa Soprattutto visto I due armatura Però Visto che siamo Di red coin Possiamo fare questa Bella greedy play Visto che abbiamo Toccato lo scalino Dei 6 5 4 Oh i boh Questa da noia Fortunatamente Non ha preso Troppi ping Su quella 6 Siamo solo Due punti Indietro Abbiamo la Dominance Perciò Possiamo Addirittura Ponderare Di sparare Sul pluteo Con questa Finché è possibile Perché poi Già diventa Complicanza La cosa Prendere Questi bei punti Triv Lui avendo messo Anna Stranger In campo Difficilmente Andrà a perdere Questo round O passa a 5 O spinge Fino alla fine Nenne che Nenne che va bene Potrebbe essere Un nenne che scorce Però con quella Anna 12 Ci rischia Ok Santa armor Quanti danni Ci ha parato Va bene A questo punto Direi che Un bel Questa Che gioca Per 8 Gioca per 8 Si basta E avanza Per il momento Cioè basta Si avanza Non troppo Però va bene Diciamo che basta Lui è bello indietro Quindi è il momento Di tirar fuori L'artiglieria pesante Tipo Col fatto che Quella a fare Va a 13 Adesso Se c'è a scorce Questo è il momento Di tirarlo Perché sennò Perde quasi più Lui di me In termini di valore Interessante questa Per Nenne che Va bene Eh Quello è il peggior target Su cui potesse andare A questo punto Giocheremo Questa potente carta Perché è la meno brutta Da tirare Sostanzialmente Spigliamo anche la triv E mo Comincia A essere Un problema Per lui Quindi se c'ha barone Se c'ha Robe Importanti Tipo filippa Questo è il momento Di cagarle fuori Perché sennò Sono cazzi tuoi Eh appunto Esattamente Però noi abbiamo Anche un'altra 10 In mano Eh Ok Tiriamo questa bella 10 Noi pigliamo 2 Lui piglia 2 Perché uno Che prende Glielo neghiamo di bleed Ma comunque spara Ok Quindi se noi passiamo La nostra beast Va a 7 E vinciamo Non ha calcolato probabilmente Il fatto che lui perdeva Uno di bleeding Ma non importa Qualunque caso Ci siamo presi questo Oh Nice 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 Ora Facciamo un po' di Mulligan ponderati Tipo Questa può essere più comoda Di questa in realtà Questa è già carina A sto punto Tra queste due Qual è la più brutta? Probably questa Perché ci serve una pro active Quindi questa cosa qua Ci può dare Ozra, Loriana, Karantir Matauri Più o meno Tutta roba usabile Tranne questa Anche se il barone È già andato Quindi in realtà Non so bene Di che cosa Io dovrei aver paura Se qua vuol fare Filippa I'll take it Ma quello che noi Dobbiamo prendere Non è il vantaggio carte Ma il leader Basically Solo il leader Ci interessa Leader o scorch Non so se giochi scorch Ma con Anna Stranger È abbastanza improbabile Giochi scorch A questo punto Mettiamo questa Tutto davanti Chiaramente Perché Dovesse mai giocare Engine Da siege dietro È inutile Rischiare Dargli target Ora Analizziamo Per questo abbiamo Igerne Senza barone Perché è già andato Questa può andar bene Questa non tanto Questa va bene E questa ce la faremo Andare bene Quindi Quella ce ne frega un cazzo Questo è il turno Di Staroblade Perfetto Ma t'auguriva Benissimo Ci da Cosa ci dai Cosa ci dai Vedete che esce sempre Orianna Anche se ce n'è tante Da 9 Incredibile Non voglio usare Ne leader Ne Orianna Chiaramente Ne tantomeno Il defender Però O gioco la combo Con la living armor O gioco il defender Con Orianna Visto che ci manca Carantir da pescare E abbiamo la sicurezza Di pescare Ozeral Possiamo tranquillamente Pushare Adesso ti faccio vedere Io come si bleed Da brutto porco Si mette Questa qua così Intanto lui non mi può Muovere le unità Neanche volendo Facciamo così Anche se perdiamo Un target Per Orianna Chi o meno Con le cazze Sostanzialmente Così Si bleed Da New Orleans Poi mettiamo il defender In caso lui voglia fare Last play di Korat O bocchini vari Non lo so Si arrangerà un po' lui Vabbè Ok Chi se ne fotte Non gli basta Però Fa comunque sorridere Questa cosa Molto Facciamo giocatina Anti Korat Diamo più uno Alla Triv E il nostro round Finisce qui Lui dovrà usare Leader adesso Per forza 100% Che usi leader Non c'hai Niente Che ti salva Nel mazzo Ma proprio Nulla Può fare Filippa sul topo Ok Wow Good shit Penso sia uno Shoop A questo punto No però Questo è il secondo Pluteo È un engine armor Strano Che Chi se ne frega Abbiamo preso Leader Prendiamo Adesso devo ancora Giocare una carta Ah Buongiorno Leader E igni Wow 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 Peccato che Siamo pari Se no l'idea Era buona Eh Penso che tu debba Surrendare A rigor di logica Credo che Eskin Vio Sia la tua Migliore opzione Perché Stai giocando Sì ok Per se la quella Era meno Metterlo 5-6 ore fa Comunque va bene Cazzo Penso che Lui guarda Cosa pesca Se non ci sono 3 gold Su 3 Eskin Vio Noi aspettiamo Di maligare Perché voglio vedere Facciamo di fare I maligan a lui Aspettiamo Aspettiamo E ora facciamo I maligan Avrà trovato 3 gold Vedremo Falibor e Filippa Ce li ha Perché se no Avrebbe già surrendato Ok Quindi Filippa Non la puoi fare Perché non c'è niente Falibor È una 7 Mertosa Vediamo se qua Surrenda Tutta questa moto Da 4 Appena realizza In qualche modo Una bella 7 che non fa niente Costo 11 E si vola Via Alt F4 Veramente Dai Non è giusto Così Devo fare il video Devo fare vedere I miei viewers Che ti leggiamo Nella testa Predictiamo Tutto quello che fai Devo bullarmi Gasarmi E vantarmi Durante i miei video Accidenti Bene Vi racconto una barzelletta Finché aspettiamo Questo signore Non me ne vengono in mente Nessuno Perché poi in realtà A me piace dire Le barzellette Però sul momento Mi vengono solo Delle freddure Imbarazzanti Roba stile Ci sono due pomodori In autostrada Guarda una macchina Quale macchina Capito Queste minchiate qua Però volevo raccontarvi Una barzelletta Bella In questo momento Non mi chiede nulla Quindi godiamoci insieme Questa bellissima Connessione Con l'avversario Interrotta Che tra l'altro È tradotto con Il tuo avversario Ha sucato come una bestia Fatto alt f4 Devi aspettare un attimo Ok